A grande richiesta continua l'offerta di Accademia del Mobile. Conferma il tuo acquisto entro il 20 gennaio. Accademia del Mobile ti rimborserà il trasporto, il montaggio e anche l'IVA. È proprio vero! Anche l'IVA! Affrettati! La promozione è valida fino al 20 gennaio solo presso i rivenditori di Salerno, Avellino e Benevento aderente all'iniziativa. L'offerta non è cumulabile con le altre promozioni in corso. Accademia del Mobile Solo mobile in legno massello.